Acquistare prodotti sani del territorio con il miglior rapporto qualità-prezzo, quasi un italiano su due, in tempi di crisi, sceglie la vendita diretta dei prodotti alimentari. Porta aperte dell'agricoltura made in Italy ai suoi consumatori, quindi, al Circo Massimo di Roma, con l'evento Cibi d'Italia, organizzato da Fondazione Campagna Amica e Coldiretti. Sono stati tre giorni frequentatissimi, peraltro erano presenti circa 10.000 prodotti e 300 produttori, un bello spaccato dell'agricoltura italiana. C'è stata tantissima gente, tantissimo interesse, pertanto un'iniziativa sicuramente da ripetere. Gli italiani, anche in tempo di crisi, scelgono la vendita diretta. Come mai? Soprattutto in tempo di crisi scelgono la vendita diretta. Devo dire che è un fenomeno in forte crescita. Solo nell'ultimo anno c'è stato un aumento di circa il 25%. I vantaggi sono sostanzialmente il miglior rapporto prezzo-qualità e poi la consapevolezza di avere un prodotto tipico, fresco, genuino. Il rapporto diretto con il produttore poi crea un elemento di fiducia e di informazione, che sono due momenti fondamentali nel momento di acquisto. La gente si è svegliata. Preferisce spendere di più e mangiare di meno, ma il mangiare di qualità. Per queste cose non c'è crisi. E in questo momento l'agricoltura, per fortuna, è ritornata alla ribalta.